Con il numero 24, Addos. Con il numero 13, Giammarco. Con il numero 3, Joachim. Con il numero 19, Pasquo. Con il numero 16, Giammarco. Con il numero 34, Minas. Con il numero 18, Edis. Numero 90, Gaston. Numero 99, Ewing. Con il numero 9, Joachim. Luca. Mi serve molto. A disposizione, con la guogliana, con il numero 144, Mozzuoli, San Vesaro, i 20-11, a presto di cistero, a presto di cistero, a presto di cistero, a presto di cistero, con un tempo per il regolo di un senso di destra, con un'automossa, la banda, su-la-sa-noglia! il tempo è stato francese ma è non ti sei sanno una sottola non ti sei ne va a farlo non ti sei la sua felicità non ti sei sanno una città non ti sei sanno una terra che si sanno bene Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.